Io l'ho visto stasera per la prima volta dal vivo, ero già convinto, stasera mi ha convinto ancora meno, io nella mia squadra, io faccio giocare ragazzino sempre, perché si muove, ti sa tenere la palla, sa fare l'uno-due, sa giocare con la squadra. Abbiamo visto in quella partita là, lui non voleva mai la palla. Non sono d'accordo con te, perché tu non capisci del centro avanti, perché in Pullman, il fenomeno del cazzo, due ore dallo stadio, ho detto stasera, Alan non la tocca mai. Sì. C'è come io le partite le vedo come si deve muovere il centro avanti? Certo. Lui non la ciappa mai, perché giocando tre dietro e tu sei l'unico, ok, l'unico, cerca di capire te, il fenomeno, perché poi se tu mi dici, deve migliorare il lavoro sporco, sono d'accordo al 100%, però la situazione è questa, quando giochi un centro avanti con tre dietro, due laterali e tre centrapisti davanti. di Tangents afugh di indescrizione Grazie.